Contro i contagi la regione insiste sulle terze dosi. Ricci chiude un anno di combattimento e ne apre uno di rigenerazione. Vallefoglia guarda al 2022 con tanti progetti in cantiere. Domenica niente WL, il Covid fa rinviare l'intera serie A di basket. Grazie a tutti. L'ultimo TG di questo 2021, il 3 gennaio, e in questo ultimo notiziario di dicembre apriamo anche oggi aggiornando purtroppo un nuovo record di contagi. Dopo i 1.707 casi di ieri il Covid-19 nelle Marche che raggiunge oggi quota 1.814. Va detto però che si abbassa la percentuale di tamponi positivi dal 18 al 16% di fronte a un'imponente giornata da oltre 15.000 test processati. Sono 275 i casi invece registrati in provincia di Pesaro e Urbino. L'incidenza da contagio schizza 486 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Si arresta però l'ascesa dei ricoveri. Oggi se ne contano 260, ovvero uno in meno di ieri stazionari i 43 casi in terapia intensiva. Anche oggi invece purtroppo 7 decessi, 5 donne e 2 uomini di età compresa fra 71 e 105 anni. E dunque come avete ascoltato non si arresta la violenza di questa quarta ondata di Covid-19 e la regione Marche fa scudo rilanciando sull'accelerata in merito alle terze dosi di vaccino. Si punta a somministrarne 16.000 al giorno nel mese di gennaio. Una macchina che sarà potenziata anche a livello di tamponi dedicati agli studenti per scongiurare la didattica a distanza. Sono queste dunque le priorità stilate oggi dall'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini in occasione della inaugurazione ad Ancona di nuovo appunto tamponi dedicato alle scuole ed allestito dalla Marina Militare. I temi principali sono essenzialmente tre. Il primo la necessità di vaccinare 450.000 marchigiani nel mese di gennaio. Un'opera imponente, dobbiamo vaccinare 16.000 persone al giorno perché con le nuove norme per cui la copertura vaccinale si esaurisce dopo quattro mesi alla seconda dose c'è questa emergenza. Quindi dobbiamo potenziare tutte le linee vaccinali e vaccinare appunto 16.000 persone al giorno per raggiungere appunto la copertura totale con la terza dose di tutte le persone che appunto devono essere vaccinate. Allestiremo anche uno slot con dei funzionari chiamati a rispondere anche della necessità di riprogrammare le vaccinazioni. Cioè le persone che si sono prenotate, che sono state spalmate dal sistema poste a febbraio, marzo e addirittura ad aprire, dovranno tutte essere riconvertite per la vaccinazione di gennaio. E quindi chi non dovesse essere contattato, non certo oggi o domani, ma nella prossima settimana, nei prossimi dieci giorni dall'Asur, ecco deve chiamare il numero verde e chiedere la ricollocazione a gennaio. Quindi diciamo che il sistema è imponente, vaccinare 450.000 persone, che non è una passeggiata, lo voglio sottolineare, nessuna regione ha un programma così imponente in un mese. Il secondo tema è la riapertura in sicurezza delle scuole. Come sapete il governo ieri ha emanato un decreto legge, deve essere ancora pubblicato in gazzetta ufficiale, io non l'ho visto ancora, che prevede però delle misure importanti, cioè le persone vaccinate, ancorché positive, se non hanno sintomi, non sono sottoposte sostanzialmente al contact tracing, il che significa che l'area di verifica per la sanità pubblica interesserà le persone disabili, persone che hanno delle patologie e le persone non vaccinate. Quindi stiamo allestendo sostanzialmente un meccanismo per un triage attraverso i tamponi per gli studenti, perché noi non possiamo non garantire le lezioni frontali. Come sapete la regione Marche ha organizzato e potenzierà lo strumento della purificazione dell'aria nelle aule. Questo esperimento che noi abbiamo avviato un anno fa su proposta dell'assessore Latini e del collega Baldelli ha evidenziato un elemento straordinariamente importante, cioè nelle scuole dove c'è il purificatore d'aria non si sono verificati i casi, c'è stato un solo caso positivo e la positività non si è trasmessa agli altri studenti. Quindi stiamo lavorando in quella direzione, questo meccanismo delle Marche è stato preso un po' considerazione a livello internazionale. Si chiude un 2021 di combattimento, si apre un 2022 di rigenerazione. Questo il pensiero di Matteo Ricci nella conferenza di fine anno del sindaco alla presenza di tutta la rinnovata giunta comunale. Cala il sipario su un anno di combattimento. Etichetta che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci affibbia nel penultimo giorno di un 2021 di costanti battaglie generate dal fronte sanitario. Dalla lotta al covid alle strutture ospedaliere fino alle ripartenze di attività lavorative e turismo dopo le restrizioni da pandemia. Nel 2022 le battaglie non si esauriranno ma per l'anno nuovo si punta sulla rigenerazione. Un termine utilizzato a cominciare dalla giunta rinnovata nelle figure di Luca Pandolfi e Camilla Murgia, nuovi assessori in luogo di Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci. Giunta radunata al gran completo per lo start all'anno nuovo. La battaglia continua perché ovviamente la variante del covid si costringe a rapportare ulteriormente le prescrizioni. L'invito è quello di vaccinarsi. Basta ambiguità sul vaccino, non c'è altra difesa in questo momento che il vaccino. Credo che questa debba essere la priorità per tutti coloro che hanno una responsabilità politica perché se non sconfiggiamo il virus non riusciremo a vivere come vorremmo e non riusciamo a sostenere come vogliamo una crescita economica che per fortuna nella nostra città è molto forte perché non si trovano operai e dipendenti da nessuna parte. Al tempo stesso però abbiamo bisogno di rigenerarci, per questo abbiamo rigenerato la giunta con qualche componente nuovo, in bocca al lupo Camilla Muggia e a Luca Pandolfi, grazie a Giuliana Ceccarelli e a Sara Mengucci per il grande lavoro pronto e abbiamo rivisto un po' di deleghe perché abbiamo bisogno, come ho detto oggi in giunta, degli occhi della tigra. Non so chi di voi si ricorda di Grotti Balboa. Abbiamo bisogno degli occhi della tigra perché non è una fase ordinaria, è una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di dare tutti noi stessi per servizio di una comunità che deve combattere al tempo stesso di rigenerarsi, rigenerare l'economia, mettere a terra una mole infinita di risorse per gli investimenti che abbiamo ottenuto e per il terremo e cercare il più possibile di rimettere in moto anche il turismo alla cultura con un occhio particolare come sempre è stato per il nostro territorio ai più deboli, alla scuola e all'ambiente. Quindi queste sono le priorità che abbiamo nel 2022 con tanti dossier aperti. Tematiche sanitarie al centro dei pensieri di Ricci a cominciare dal perdurante stato di sofferenza del pronto soccorso sollevato dal primario Umberto Gnudi. La risposta non può essere quella di far dire a tutti gli primari che le cose vanno bene perché la risposta deve essere quella di dargli velocemente il personale e deve essere quella di far funzionare insieme il pronto soccorso con l'ossido dell'ospedale. La sostanza è che non si può andare avanti con un ospedale che ha un pronto soccorso così intasato, con un personale sanitario che da troppo tempo è sotto stress, che ha bisogno di un rapportamento e di un'organizzazione differente. Ospedale attuale e ospedale nuovo, un altro tema centrale del 2022 che sta per partire. Il nuovo ospedale è un impegno importante che la Regione Marche ha preso, non è il nuovo ospedale che avevamo in mente noi, però almeno è un passo avanti per una struttura nuova e adesso dobbiamo entrare nel merito perché il fatto che sia stato scelto e finanziato è positivo, adesso dobbiamo entrare nel merito col Presidente Quaroli sul cronoprogramma e sul contenuto del contenitore. Per noi è imprescindibile l'azienda sanitaria perché senza azienda ospedaliera non avremo le eccellenze che servono e ovviamente vogliamo discutere anche di come questo nuovo ospedale si relazionerà con il resto del territorio e con la struttura di Fano che rimane e che di conseguenza diventa fondamentale per l'azienda Marche Norte. Alla presenza di tutti gli assessori Ricci ha analizzato ogni delega, da un bilancio che si chiude con una gestione virtuosa al tour dei quartieri che ha presentato sì problematiche ma non emergenze, fino ad una sicurezza che nell'anno nuovo si vuole potenziare su un triangolo compreso fra Miralfiore, stazione ferroviaria e centro storico fino al conservatorio, quello che ha detta di Ricci concentra le maggiori criticità di criminalità e infine le opere pubbliche. In particolare Ricci si è soffermato sul Vecchio Palace, il cantiere che più lo preoccupa e che necessiterà di una nuova gara d'appalto per il completamento. Sul Vecchio Palace continuiamo a avere dei problemi, però è una struttura che per fortuna abbiamo coperto, il grosso dei lavori strutturali è stato fatto, adesso dobbiamo fare dei lavori di completamento, fare nel più breve tempo possibile perché è una struttura fondamentale per noi, quindi un cantiere che ha avuto diversi problemi ma che dobbiamo assolutamente nel 22 e completare e inaugurare. E dunque conosciamoli due nuovi assessori del Comune di Pesaro che faranno parte della squadra di Matteo Ricci nel 2022. Ascoltiamo le prime parole d'assessori di Camilla Murgia che è eredita da Giuliana Ceccarelli l'assessorato alla crescita e di Luca Pandolfi che si occuperà dell'assessorato alla solidarietà dopo i saluti di Sara Mengucci. L'emozione di questi giorni è ancora molto viva, sono molto onorata di ereditare tutto il lavoro altissimo che ha fatto Giuliana Ceccarelli in questi anni e sono ben consapevole, come diceva il sindaco, che il tema della scuola è un tema caldissimo. Si giocherà tutto nelle prossime settimane, rientro a scuola e la nuova fase della pandemia che speriamo sia in diminuzione ma i dati non ci rassicurano al momento, sarà uno dei miei primi interventi e azioni sicuramente da assessora. Un altro tema però che ho molto a cuore è quello delle pari opportunità e sicuramente del contrasto all'odio, quindi mi vedrete molto impegnata anche su queste tematiche che da sempre porto avanti prima da consigliera e poi adesso da assessora sempre con più convincimento. È un assessorato importante, sono consapevole della responsabilità e del lavoro che dovrò fare, ringrazio il sindaco per la fiducia e ringrazio giustamente l'assessore Sara Mengucci per il lavoro fatto in questi anni che è riconosciuto da tutti. Ho sempre creduto nell'importanza di lavorare di squadra e in gruppo e quindi so che potrò contare su degli uffici con delle persone competenti, in consiglio comunale che soprattutto la maggioranza ha la tradizione di essere sensibile a queste tematiche sociali, tant'è che abbiamo investito negli ultimi anni molti risorse e tutto il mondo del terzo settore che lavora e fa volontariato in questo settore che ha peso a una grande ricchezza ed è molto forte, quindi lavorerò di squadra, siamo pronti a continuare un buon lavoro che era già stato iniziato. Conferenza stampa di fine anno oggi anche nel comune di Vallefoglia dove pandemia a parte si chiude un anno di grandi progettualità che saranno concretizzate nel 2022. Vediamo il servizio di Edoardo Orazzi. Un 2021 caratterizzato ancora dal Covid-19 ma in termini di progetti e interventi può considerarsi un anno positivo per il comune di Vallefoglia. Questo è quanto emerso dalla tradizionale conferenza stampa di fine anno avvenuta oggi 30 dicembre dove il sindaco Palmirucchielli ha anche ricordato quali saranno le operazioni che verranno portate a termine nel 2022. Il bilancio è stato un bilancio molto positivo, abbiamo approvato entro i termini di legge fine novembre l'assestamento con l'utilizzo di circa 600 mila euro per la messa in sicurezza della viabilità, delle strade, degli asfalti e con qualche altra risorsa che abbiamo a disposizione. Abbiamo approvato il bilancio 2022-2024 prima delle feste di Natale, quindi nei termini in cui la prova la Regione e lo Stato anche se per i comuni non è obbligatorio e abbiamo in corso un'infinità di lavori, di opere pubbliche e devo dire in parallelo forse ancora di più delle aziende private, 50-60 mila metri di capannoni nuovi, di aziende leader nel mondo per noi vuol dire centinaia di posti di lavoro del 2022. Oramai in via d'ultimazione la depurazione dell'asta fluviale del Foglia con il secondo depuratore dopo quello di Burgheria ed è in programmazione un terzo in località Schieti, probabilmente da realizzarsi a breve anche quello, quindi con una depurazione tutta l'asta fluviale, grande operazione ambientale mai avvenuta in questi 30-40 anni. Stiamo 2022 ultimando i lavori della depurazione e della meternizzazione di Colbordolo Monte e di Montefabri, abbiamo in corso i lavori del Comune che dovrebbero finire diciamo entro la prima metà del 2022 e poi abbiamo in corso il nuovo teatro, già iniziati i lavori, abbiamo in corso diciamo in via d'approvazione anche il nuovo programma di opere pubbliche, in particolar modo sono 7-8 anni con il 2022 che mettiamo 500-600 mila euro di investimenti nella sicurezza stradale. Un polo per la sicurezza, un miglioramento dell'attività delle poste che dipendono dal Ministero dell'Economia e anche diciamo una forte operazione sulle politiche attive per il lavoro, facendo funzionare di più e meglio il centro per l'impiego di Pesaro, il punto in formazione lavoro di Morciola dove ci sono le politiche per i giovani, per gli immigrati, i laboratori per la formazione professionale, per formare le persone che servono alle imprese così appena formate trovano lavoro. Quindi diciamo che nonostante il Covid e la raccomandazione che faccio è di vaccinarsi, il 2022 quindi sarà un anno molto importante, molto positivo, lo vedo così con una punta di forte ottimismo perché fra gli investimenti privati e gli investimenti pubblici saranno centinaia di posti di lavoro che danno una speranza di futuro. E' morto Cesare Cofanelli, ex agente della Polizia di Stato e uno dei fondatori del coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia. Oggi tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sono arrivati da parte di tantissimi esponenti della politica del centrodestra cittadino. E sull'onda del Natale che ci siamo appena lasciati alle spalle continuiamo a ritagliare un nostro spazio dedicato alle belle notizie di altruismo. È il caso della Onlus Gulliver che oggi ha donato uno scivolo e due altalene per riqualificare il parco giochi di Pantano in via Abba. Si tratta dell'ennesimo parco riqualificato attraverso il progetto Altro Giro. Oggi sono due giochi, sono uno scivolo e due altalene in via Abba a Pantano nel centro di Pesaro. Il progetto Altro Giro sta funzionando molto molto bene con l'amministrazione comunale di Pesaro, progetto che stanno guardando anche altre realtà d'Italia e in altre province. Il progetto è semplice, chiediamo ancora una volta a tutti i cittadini della città di Pesaro e i comuni di Mitofi di portare i loro abiti che non usano più alla Gulliver, via Rossi, piazza Redi o via Toscana 111. Noi questi abiti in parte li doniamo alle famiglie bisognose, siamo l'unico centro provinciale di donazione e di raccolta e in parte vendiamo nelle nostre botteghe del riuso. Con il ricavato poi acquistiamo questi giochi o facciamo altri progetti con le scuole, con gli ospedali o con il comune. È importantissimo per tutte le persone di Pesaro e i comuni di Mitofi non buttare via gli abiti, non buttate nei cassonetti per strada, buttate lì quelle cose da buttare, le cose belle e ancora riutilizzabili, portatele a Gulliver perché grazie al vostro sforzo, alla vostra donazione possiamo fare tanto in città e nei comuni di Mitofi. Un grazie va grande, grandissimo alla Gulliver per questo dono che ci viene dato al quartiere Pantano. Rivalorizziamo uno dei parchi di Pantano dando nuovi giochi per i bimbi, tra l'altro questo è un parco molto frequentato, era stato un po' dimenticato e adesso finalmente riprende valore con i nuovi giochi, le panchine erano già state riverniciate quest'estate con un progetto finanziato dalla regione e poi andremo anche a risistemarlo con le altre panchine rimanenti. Benissimo così, andiamo avanti, ne faremo altre nel quartiere e quindi ci saranno altre novità del quartiere per renderlo sempre più bello e questo parco naturalmente con i giochi per i bambini e con la verniciatura delle panchine e con tutto quanto sarà sicuramente ancora più frequentato. Sarà un 2022 che inizia in musica con il doppio concerto di Capodanno organizzato dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Il primo gennaio alle 17 al Teatro della Fortuna di Fano e poi alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro. Orchestra Sinfonica Rossini che si esibirà con un concerto dedicato a Shostakovich e allo schiaccianoci di Tchaikovsky nella doppia performance del violoncello di Giovanni Gnocchi diretto da Daniele Agiman. Gli abbiamo intervistati entrambi ai margini delle prove allo spettacolo tenutesi al Teatro Sperimentale. Siamo al Teatro Sperimentale di Pesaro, uno dei due luoghi di questo doppio concerto di Capodanno con Giovanni Gnocchi e il suo violoncello, i due grandi protagonisti di questo doppio appuntamento. Per me è un grandissimo piacere essere di nuovo qua a Pesaro per un rapporto particolare che mi lega al territorio e proprio al calore umano delle persone dell'Orchestra Rossini e una grandissima stima e riconoscenza col maestro Daniele Agiman che sarà il direttore d'orchestra per queste due serate e due concerti. Io suonerò il primo concerto di Dimitri Shostakovich, un brano composto nel 1959 in Russia a Mosca e potrei dire è proprio un brano che vede il trionfo del ritmo, è un brano che ha una parte importante molto martellante e in cui è impossibile non danzare, direi quasi heavy metal come brano, però nel contempo abbiamo anche la parte centrale del concerto di Shostakovich dove il calore umano e il dramma e questa malinconia struggente fa ben comprendere anche la difficile situazione che vivevano i musicisti e i cittadini negli anni del regime sovietico e di tutti i divieti che erano imposti e attraverso i quali loro potevano cercare una strada nonostante questo per esprimersi. Quindi è un brano diciamo coinvolgente al 100% e che il pubblico si ricorderà per sempre. Ecco, il concerto di Capodanno è poi sempre una collocazione particolare, speciale, apre un anno che si spera diverso, soprattutto per voi musicisti. In questi giorni siete quasi dei superstiti tra le cose che si possono e non si possono fare. Io devo dire che mi sento moltissimo fortunato perché appunto stavamo dicendo io vivo a Salisburgo in Austria e in Austria dal 17 novembre c'è stato un lockdown totale, cancellati tutti i concerti fino a metà dicembre e a Salisburgo è una delle regioni più colpite per cui appunto è un grandissimo privilegio che noi abbiamo qua in Italia di poter continuare a fare musica con l'orchestra, con l'organico completo, distanziati ma in una situazione del genere ben vengano le mascherine, ben venga il distanziamento e veramente godiamoci questo lusso che condividiamo con grande piacere, con grande amore col pubblico. Daniele Agiman, ultimi preparativi qui al Teatro Sperimentale per quello che è il concerto di Capodanno, un momento che già di per sé è speciale, il Capodanno ha sempre una collocazione particolare anche a livello musicale ma anche proprio una partenza per Sinfonica 3.0. Sì, una grande partenza, un programma importante a Pesaro, con la difficoltà che sappiamo riparte insomma la situazione sanitaria non facilissima ma noi abbiamo voluto scommettere su figure nuove in orchestra, direttori nuovi, giovani, programmi sempre molto ambiziosi a partire proprio da quello di Capodanno. L'orchestra Sinfonica Rossini vuole offrire al suo pubblico che un pubblico attento partecipe anche quando le sfide sono le più grosse come questo concerto di Capodanno, proponiamo un concerto quello di Shostakovich che non è proprio facilissimo all'ascolto ma è una grande scommessa perché sappiamo che abbiamo un pubblico fedele, amico e partecipa alle nostre proposte. Una scommessa che poi nasce su un doppio appuntamento? Assolutamente sì, Fano, Pesaro e poi addirittura quest'anno abbiamo un'anticipazione fuori regione quindi arriveremo rodatissimi, caldissimi con un nostro artista in residenza di cui siamo orgogliosi Giovanni Gnocchi, un caro amico ormai dell'orchestra e la nostra migliore compagine. E concludiamo con lo sport. Domenica 2 gennaio la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non scenderà sul parchè della Vitrifigo Arena contro l'Olimpia Milano. Oggi infatti la Lega Basket di Serie A ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'intero prossimo turno di campionato a causa di una emergenza sanitaria a livello di contagi da Covid-19 che sta interessando la maggior parte delle società sportive e che ha dunque suggerito il rinvio precauzionale dell'intera quattordicesima giornata di campionato. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che parte alle 21.20 con una nuova puntata della TV dei Viaggi che ci porta alla bellezza delle scoperte del pianeta. In questo caso ci occuperemo della Grecia appuntamento alle 21.20. L'informazione su Rossini TV torna invece puntuale domani con l'ultima rassegna stampa buongiorno Rossini di questo 2021. A chiudere l'anno sarà come vedete in grafica il nostro Antonio Astuti con i quotidiani appunto dell'ultimo giorno dell'anno da consultare come sempre in diretta alle 7.20 e poi con repliche alle 8.20, alle 12.30, alle 14 e alle 18. Quello di oggi è l'ultimo telegiornale Rossini News ma domani sera ci sarà una edizione speciale in cui ripercorreremo i principali fatti del 2021 raccontati dalla nostra redazione dunque un appuntamento assolutamente da non perdere ma se doveste perdervelo c'è anche la replica del 1 gennaio alle 13.00, dunque appuntamento domani alle 20.30 con appunto il recap dei fatti del 2021 di Rossini News e in alternativa la replica il 1 gennaio alle ore 13.00. E anche in questi ultimi giorni dell'anno vi ricordo l'app di Rossini TV, uno strumento assolutamente indispensabile e semplice per avere a portata di clic la possibilità di rivedere le nostre notizie, di consultare la nostra programmazione o di inviare delle segnalazioni alla nostra redazione. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News, l'ultimo TG di questo 2021 a me non resta che augurarvi davvero un buon anno, un nuovo anno di grandi speranze continuate a seguirci su Rossini TV, ora ci sono le previsioni del tempo e vi lascio in compagnia dei nostri programmi.